La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi. Il vostro viaggio nel Medioevo è solo all'inizio, lasciando via alle spalle il castello che veglia su di voi e su tutto il popolo, la storia vi attende lungo le strade del borgo e alla corte di guidone.